Ciao a tutti e tutti ragazzi e ragazzi e welcome everybody in un nuovissimo video questo sarà l'all dei saldi di Terranova perché come sapete io adoro Terranova e penso sia la mia marca preferita il mio negozio di abbigliamento preferito sono andata a comprare un po' di cose perché ci sono i saldi e soprattutto perché avendo la carta di Terranova posso approfittare di un sacco di offerte quindi se volete farla non costa nulla basta che lasciate i vostri dati personali e se siete maggioreni potete farla tranquillamente altrimenti chiedete il consenso o il genitore ma penso sia la cosa più semplice del mondo e grazie alla Fidelity Card voi potete avere o meglio potete soffrire di tantissime offerte che secondo me sono fantastiche ad esempio lo sconto al 30% sulla nuova collezione oltre al comunque diminuire determinate spese perché ogni 10 euro di spesa sono un euro sulla carta vi faccio vedere le cose così come capitano perché sono di fianco a me e niente la prima che ho preso, la prima, una delle tante cose che ho preso è questa felpa di questa specie di grigio non è grigia, è tipo bian... no di questa specie di colore avorio taglia L, tutte le cose sono L perché io faccio la L da 20 euro, quindi da 19,99 l'ho pagata 7,99 euro e c'è scritto, sopra fashion district in New York City be yourself there are no more clothing and go for your style follow your style e questa qua questa c'era anche nera e rossa e mi sa color cipria però non so, a me piaceva questa anche perché il nero e il rosso io non li indosso il nero e il rosso io non li indosso, bella cazzazzina questa è la prima, andiamo avanti la seconda è questa questa da 17,99, 7,99 di questa specie di blu diciamo che l'ho preso di questo blu jeans blu e qui sempre L qui c'è scritto New York City America Times Square Times Square, ma notta New York c'è il numero l'ho fatta così, col colo un po' più largo di... no, forse il colo era quello poi ho preso questa maglia molto Christmas da 19,99 5,99 euro perché la collezione di Natale sta praticamente a 5 euro fantastico ed è così, blu con le renne perché io amo le renne e i fiocchi di neve perché secondo me le renne sono il simbolo più bello del Natale e quindi sì, con le renne via anche questa L di queste ne avrei presi altre però mi piaceva tantissimo questa con le renne c'erano anche altre maglie poi questa di cui si è staccato il prezzo però adesso lo recupero perché ho lo scombrino questa 9,99 però non so il prezzo di partenza perché mi si è staccato cioè si è strappato qui comunque questa viene 9,99 perché sono risalita diciamo allo scontrino però non so il prezzo iniziale perché appunto non c'è ed è questa qui bianca con il collo più stretto dove c'è scritto all we have is love and you are perfect cioè tutto quello che abbiamo amore tu sei perfetto in questo ed è così con la scritta proprio di cuore con la scritta love con i belloni poi abbiamo questo tempo per aumentare la mia collezione delle maglie con gli animali perché ormai sono tipo 3 anni che le prendo questa è la prima l'altra col gatto è la seconda e questa è la terza allora il primo anno anzi il primo anno che io l'ho presa c'è il cane il secondo anno c'è il gatto il terzo anno c'è un orso sempre di questo blu effetto jeans non so se lo vedete l'orsetto poi incontro luce non so se lo vedete vabbè c'è un orso qui disegnato effetto vedo o non vedo l'ho voluto cambiare colore perché anche questa stava sia marrone come questa che grigia che bianco adesso vabbè dai cambiamo colore sennò tutti gli anni uguali così ed ha come appunto queste il cappuccio imbottito peloso e le orecchie a forma di orsetto cioè le orecchie dell'orsetto quindi quelle tonde invece qua ci sono queste oddio dove sono ho perso le orecchie eccole qua e invece quelle del gatto con la peppa col gatto ci sono le orecchie a punta se non so se ve la ricordate quella coloravorico o beige chiara comunque sono così ed ecco l'altro è questa da 25 euro e 99 poi altra maglia altro giro altra corsa sempre L ovviamente da 25 euro e 9 euro e 99 questa con questa fantastico panda tutta peloso tutto morbidoso dove oddio c'è scritto from japan with love quindi dal giappone con l'amore e dentro questa maglia è tutta pelosina bella proprio mi piace un sacco io amo le maglie con gli animali se non l'avete capito passiamo ai 3 greens il primo è questo qua anche queste taglie L però secondo me la L di Terranova dice 42 ma io porto la 44 vabbè non ci interessa ed è questo color grigio chiaro perché io non ho jeans scuri ho solo jeans chiari mi detto vi devo comprare jeans scuri questo è il primo pagato non si sa quanto è sparito il cartellino anche a questo jeans fantastico ah no i pantaloni costavano tutti quanti 7 euro e 99 sì pantalone pantalone sì i pantaloni quindi tutti quanti 7 euro e 99 quindi questo è il primo di questo jeans chiusura classica boccanatura tessuto jeans non tessuto pantalone perché io i tessuti da pantaloni quindi stoffa più leggero non mi sopporto per visto il tessuto jeans perché lo trovo molto più resistente poi abbiamo il secondo jeans però questo è un po' più leggero di questo bellissimo blu cioè bellissimo con tutte le le rifiniture gialle dorate guardate dentro è tutto con le rifiniture gialle ocra e c'è il bottone anche color ocra mi ricorda un sacco i colori tasso rosso anche se ovviamente non è blu e giallo ma è blu e nero però mi piaceva tantissimo e qui c'è scritto da 19,99 a 7,99 anche questo taglia L questo mi va perfetto l'ho provato e poi è super super elastico è bellissimo ovviamente tutti sotto stretti nessuno largo tutti quanti stretti ovviamente cambia da taglia a taglia e metti uno sopra l'altro non tutti quanti la stessa larghezza però state attenti a quando vengono gli pantaloni questi di terra 9 vanno dalla XXS alla XL se vi può interessare vedete questo qui blu altro pantalone anzi altro jeans questo effetto un po' slavato quelli invece sono semplici con questo blu che diventa più chiaro verso il basso anche questo è 42 questo invece con l'interno cucitura è rossa andiamo avanti tre magliette a maniche corte perché le magliette stavano super scontate da 7,99 a 2,99 allora la prima è questa con lo smile con gli occhioni ho scritto I can't control my email is shown con l'hashtag carina la seconda tutto per terra poi raccolgo la seconda da 7,99 a 2,99 questa qua tutte 100% cotone perché altrimenti poi puzzano ed è questa qua con la scritta California Breeze Tricked Los Angeles a 3,99 carina questa è un po' più leggera di quella e poi questa con i panda per chi non l'avessi capito amo gli animali amo i panda questa è sempre uguale da 7,99 a 2,99 ed è questa qui con i panda fatti a emoji happy scare in love e angry così semplicissimo bianca io amo il bianco e arriviamo al pezzo forte tutte queste cose sono tutte quante in saldo questo prodotto che vi sto anzi questo voglio che posso vedere invece della nuova collezione e io appena l'ho visto ho detto tu devi essere mia per forza perché ha questo colore verde acqua verde no verde acqua non è verde verde acqua bellissimo cioè ditemi cosa non è questo colore è fantastico questa qua c'era anche rosa blu e se non erro gialla se non erro gli altri due sono sicuri il terzo colore oltre questo è il dubbio e questa va abbinata col pantalone della tuta però io volevo solo il sopra infatti si vedeva separato ed è fantastica con la scritta varsity bellissima mi piace che aveva i bordini qua proprio di stile maglia del college era bellissima è bellissima questa L e questa vedete non ci sono applicati cartellini gialli per questo è a prezzo pieno perché è nuova collezione e dice 19 e 19 e 99 ma io dopo che sono molto furba dato che loro mi avevano dato uno sconto da applicare sulle nuove collezioni ho avuto la bellissima fortuna di avere lo sconto del 30% quindi ho applicato lo sconto del 30% su questa maglia perché dovete sapere che se andate a dare ogni 5 capi vi fanno sul totale il 30% di sconto ogni 3 capi sul totale il 20% di sconto se acquistate ad esempio 10 capi ovviamente non mi fanno due sconti separati quindi uno sul 30 e uno sul 30 ma mi fanno il 30% sul totale dell'importo ogni 3 capi e ogni 5 capi poi la fortuna è stata che avevo la wicard e grazie alla wicard avevo altri 4 euro di sconto quindi facciamo la somma di tutto da 19 a 99 io la maglia l'ho pagata 10 euro ed è della nuova collezione cioè praticamente l'ho pagata quanto una quanto una in saldo ad esempio appunto è venuta 10 euro e qui c'è lo scontino se volete verificare non so se vedete vedete 10 euro che bello che bello vedete quanto casino ho fatto qui adesso dovrò sistemare tutte le maglie metterle nell'armadio perché si sono nuove quindi niente ragazzi il video è finito ditemi sotto nei commenti quale capo vi è piaciuto di più quindi niente ragazzi il video è finito noi ci vediamo al prossimo video come vi ho detto prima mettete sotto nei commenti la maglia che vi è piaciuto di più il pantalone quello che volete voi mettete un like se il video vi è piaciuto commentate condividete iscrivetevi ovviamente e noi ci vediamo a presto ciao ciao